Sarò sicuramente la star del reality e lo vincerò. Ma il Christmas show rimane comunque da sfigati. Favrebbero proprio comodo 300.000 euro. Madre chirurgo. Chiamami Oscar. Oscar. Padre schiattato 5 anni fa. Ti manca molto? Da morire. Figlio piccolo chiaramente problematico. Mio fratello. Strano. Presi! Sono ancora in tempo per ripensarci? No! No! Siate sentimentali ma mai melezi. Posso rifarla, scusi. Oscar Pancaldi. Auguri a tutti. Rita, la mamma di Sofia. Ma sto bene. Nonno Angelo. Detto il burbero. Ne vedremo delle belle. Seguitemi sui social. Saresti contento se Babbo Natale ti riportasse indietro il tuo papà? La gente vuole i sentimenti. Non ci sono? Li inventiamo noi. Oscar. Pierre. Non dovevamo parlare del mio contratto? Ne parliamo stanotte. Io una visita specialistica gliela farei. Caglia. La Toressa. Se la fai soffrire chi ammazza. A Santa Claus is coming to town. A Santa Claus is coming to town. Aiutatemi che prego! Oddio l'articolo! The Christmas Show. Dal 17 novembre. Arcinema. La Toressa. La Toressa. La Toressa. Grazie.